Ancora oggi, chi è questo boticeffo? Vediamo subito chi è. Rob Dickens, allora, vi dicevo, dentro la raccolta memorabilia non ci sono brani nuovi scritti da Mark e da Dave, però finiranno nel disco Solista di Mark del 1991 di cui andiamo a parlare adesso. Stiamo arrivando verso la fine dell'incontro. Rob Dickens, il presidente della UEA, mi chiamò e mi fece uno di quei discorsi sinceri che hanno un fondo di onestà ma sono talmente disseminati di buon senso a casereccio che alla fine ti fanno avere voglia di prendere un rasoio. Sapete quella cosa intesa in stillarti fiducia su come il mondo non ha bisogno di un altro disco di Mark Almond? Beh, in un certo senso aveva ragione, che aveva l'aspetto di un fenomeno da baraccone. Beh, anche qui poteva avere ragione e che avrei dovuto scrivere una canzone bella come People All People dei Depeche Mode e qui si sbagliava di grosso. Che provò anche a canticchiare. Disse che lui giudicava un disco da ciò che pensava la sua fidanzata e da come suonava quando lo ascoltava in macchina. Senti questo, mi disse, facendo partire il nuovo disco di Enia una sua scoperta ed eccolo che d'improvviso si perse nel suo mondo di splendore e autocompiacimento. Quindi l'incontro con il boss della UEA è questa cosa qua. Rob aveva in mente un'idea e come se l'aveva? Fin dal titolo dell'album Tenement Symphony preso da una delle sue canzoni preferite inclusa in un vecchio film dei fratelli Marx. aveva programmato tutto perfino come avrebbe dovuto essere la copertina che a Mark non piace voleva una cosa alla Roxy Music si ritrova un'imitazione della Deutsche Grammophon. Ecco, ma avevo il morale talmente a terra che avrei accettato qualsiasi cosa. Dategli un motivo, pensavo, e io ve lo canto. Mi rassegnai alla situazione e mi arresi al padrone senza neanche lottare. Quindi questo disco che vedete contiene tre canzoni scritte insieme a Dave dopo tanto tempo. Meet me in my dream I've never seen your face e My hand over my heart che esce anche come singolo. Ma visto che la storia si ripete il più grande successo dell'album sarà una cover anni 60 ancora una volta. Days of Paradise Spencer intanto come nasce la scelta? Il signore che avete visto prima ho chiaruto era Trevor Horn dei Bugles quelli di Video Kill di Radio Star nonché produttore di ABC Grace Jones Frankie Goes to Hollywood era un po' il deus ex machina del potere degli anni 80. Viene affidato alle cure di Trevor Horn e tra le canzoni sceglie anche una cover Days of Paradise Spencer inizialmente non doveva essere questa la canzone avevano in mente di fare Louise di Barry Ryan però dicevano l'hanno appena rifatta i Demd ma perché devo rifarla io? Preferirei fare questa. È una canzone che conosciamo molto bene anche in Italia perché come sapete allora venivano tradotte in italiano e poi cantate dai nostri cantanti quindi la tradusse in un gol e la cantò Caterina Caselli come il volto della vita la conoscerete sicuramente tutti e questa invece è la versione appunto di Mark dall'album Televent Symphony il singolo arriva al quarto posto in classifica questa volta però incredibilmente ha imparato la lezione nel lato vice è un brano suo quindi dai un po' alla volta ci stiamo arrivando quindi